Bene ragazzi, questo è il video centrale per quanto riguarda la carica di un condensatore. Tra tutti i video che abbiamo fatto sullo studio resistenza e condensatore è il più complesso, ma semplicemente perché ci sono tre elementi, mentre nella scarica di un condensatore il prossimo video saremo in discesa perché ci sono due elementi, c'è solo C ed R. Comunque, non perdiamoci. Cosa abbiamo visto nelle puntate precedenti? Intanto abbiamo già creato tutto ciò che ci serve, quindi in realtà se uno unisce il primo video in cui abbiamo ottenuto, solo con il pensiero, pensando un po' a ciò che succede, abbiamo ottenuto le cadute di potenziale su il condensatore e sul resistore, e vabbè la differenza di potenziale sulla pile è sempre epsilon, che è la nostra forza elettomotrice, e poi sappiamo che in questo circuito, qui tra l'altro ho fatto anche una, l'ho creato sperimentalmente, la corrente che passa su questo circuito all'inizio fa epsilon su R perché all'inizio il condensatore è come un filo, resistenza nulla, mentre alla fine il condensatore è come una resistenza infinita. E quindi all'inizio il condensatore viene visto come un circuito, un cortocircuito, nel senso che la sua resistenza è zero, e quindi la corrente passa al massimo di ciò che può fare, limitata dalla presenza della resistenza. Invece alla fine il condensatore diventa un circuito aperto, significa che è come se il circuito punto fosse aperto e quindi la corrente smette di passare. Molto bene. L'idea quella è ragazzi, che adesso io chiudo il circuito. Come faccio a chiudere il circuito? Beh, con lo schema è molto facile, faccio così ed è già finito. Dal punto di vista sperimentale, chiudere il circuito significa, allora, intanto vabbè, poi vi spiegherò bene quali sono le componenti di questo circuito, però ragazzi, chiudere il circuito significa fare così. Quindi adesso io perché dico che ho chiuso un circuito? Perché ho creato una malla in cui passa a corrente. Infatti, cosa ho fatto? Avendo chiuso il circuito, ora io schematicamente, allora la pila l'ho messa in verde. Quindi ho la mia pila con un filo che arriva fino a qui, però adesso il circuito ragazzi è chiuso, quindi adesso la mia stanghetta è qua, quindi benissimo, quindi abbiamo passaggio di corrente, qui c'è il mio condensatore, vedete questa piccola piastrina è un condensatore ceramico, poi abbiamo qui una resistenza, quindi simbolo rosso, e poi, vedete, riesco a chiudere il mio circuito. Quindi qui passerà corrente, sappiamo già che passerà all'inizio e poi pian piano si smorza, perché si smorza, perché qui appunto comincerà dal meno al più della pila a passare una corrente I, che però sappiamo che cambia nel tempo. Qui si stabilizzerà una carica più Q che dipenderà dal tempo e meno Q che dipenderà dal tempo, fino a quando? Beh, fino a quando, cioè che carica raggiunge? Una carica pari a, sostanzialmente, la C per delta V, quindi C per epsilon, nel senso che quando la differenza di potenziale sul condensatore è pari a quella della pila, è come se avessimo una pila e una contropila, quindi non succede più niente, quindi non passa più corrente, la resistenza sulla resistenza non passa più niente. Molto bene, quindi questa corrente passa da un valore massimo epsilon su R, perché appunto all'inizio il condensatore è come un filo, e crolla giù a zero. Mentre ad esempio sappiamo che il potenziale del condensatore invece aumenta, perché all'inizio il condensatore è scarico, quindi ad esempio il potenziale nel tempo del condensatore passa da zero fino ad epsilon. Quindi tutte queste cose noi, se avete visto il video di prima, in cui io parlo di quantità che nei transienti cominciano da un valore massimo e crollano a zero, allora vi ho detto l'andamento è fatto così, dove m è il valore iniziale grande grande, e poi abbiamo una discesa nel tempo. Se invece, e questo è esempio come la corrente, quindi in una fase di carica di un circuito RC in serie. Questo invece ad esempio è il potenziale sul condensatore, perché parte da un valore nullo e poi arriva fino ad epsilon, quindi la carica di un condensatore sarà fatta così. Però voi dovete fidarvi che gli andamenti di, che passano diciamo da un valore iniziale zero fino a un valore massimo, o che vanno da un valore massimo a un valore zero, sono fatti così. E poi vi ho parlato del tempo caratteristico. Più o meno ci siamo detti che quando arriviamo al 99%, o comunque sì, ecco, 99%, quindi 4-5 tempi caratteristici, possiamo dirci soddisfatti, sia nel caso di, diciamo, una corsa sintotica ad un valore, sia di un crollo a zero. Direi che verso i 5 tempi caratteristici, 5-6 tempi caratteristici, la fisica è terminata, la corrente non passa più. Poi andiamo a vedere, ragazzi, quanto vale il tempo caratteristico in fase di carica, e se sarà diverso in fase di scarica, non lo sappiamo. Come facciamo, ragazzi, ad ottenere delle informazioni? Sapendo l'unica cosa che si può comunque fare, la legge delle maglie. Passa una corrente IDT, qui si crea una carica che pian piano aumenta, e qui passa una corrente. Quindi andiamo, ragazzi, a scrivere l'equazione delle maglie, ok? Poi qui di maglia in realtà ce n'è soltanto una, per andare a capire qual è la nostra incognita questa volta. Allora, partendo da qui e facendo il giro, allora io scriverei più epsilon, poi meno, allora, visto che passo così, allora diventa meno il delta V, ok? Che cade sul condensatore, meno il delta V della resistenza, uguale a zero. Quindi adesso delta Vc e delta Vr, ragazzi, sono presi come positivi, perché davanti ho già messo il meno, questo poi sarà molto importante. E che cosa vale delta Vc e delta Vr? Allora, beh, utilizzo la prima legge di Ohm per le resistenze, quella che chiamerei prima legge di Ohm per i condensatori, nel senso che cosa risulta? Risulta qui la carica che dipende dal tempo fratto C meno, invece per le resistenze, R per la carica nel tempo. Allora, capite che qui ci sono due, non solo due incognite, ma due funzioni incognite, perché le cose cambiano nel tempo. Infatti questa ragazza è un'equazione differenziale. Noi le equazioni differenziali non sappiamo farle, e tra l'altro questa sarebbe un'equazione differenziale con due funzioni incognite. Intanto perché è differenziale? Mica perché ci sono due incognite, ma perché la corrente è la derivata della carica. Quindi in realtà io dovrei dire che la corrente è la derivata della carica nel tempo, e quindi al posto di I di T devo andare a scrivere che la corrente è la derivata nel tempo, e voi dite, sì ma noi non sappiamo fare le derivate, e infatti il gioco finisce qua. Però volevo andare fino a questo punto qui, cioè scrivere Q di T su C, poi meno R per la derivata nel tempo della carica. Quindi capite che qui ho un'unica incognita che è Q di T, e intanto però vi faccio vedere una cosa. Allora, visto che però Q di T non è nient'altro che la carica che si sviluppa sul condensatore, adesso riutilizzo il fatto che Q è uguale a C per il delta V del condensatore, così vi faccio vedere una cosa interessante, perché almeno andiamo a ottenere un'informazione temporale, quindi Q di T ritorna essere uguale da C per il delta V sul condensatore nel tempo diviso C, meno R, allora appunto la carica, ho detto che è C delta V, C è una costante, esce dall'integrale e dalle derivate, esce da tutto, diventa quindi la derivata nel tempo di delta V, C nel tempo. Ho finito perché adesso semplicemente vi faccio vedere una cosa, qui C e C si semplificano, e quindi ho ancora la caduta, sì anzi, l'aumento di potenziale dovuto alla pila, la caduta di tensione sul condensatore e la caduta di tensione sul resistore. Solo che adesso la mia incognita è unica nel tempo ed è il delta V, C sul condensatore. Poi in realtà per fastidio tollerò il concetto di delta, tanto sappiamo che è appunto la caduta di tensione sul condensatore, lo faccio solo perché poi scrivere a D delta è un po' fastidioso, sotto, è una caduta di tensione comunque, sappiamo che è positiva perché almeno ce l'ho già messo dentro, e quindi vi volevo solo far vedere una cosa ragazzi, questo dimensionalmente è una tensione, questo è una tensione, questo è una tensione, e quindi visto che questo invece è un tempo, ma questo deve essere una tensione, anche questo deve essere un tempo, così tempo e tempo dimensionalmente si semplificano. E sapete che cos'è R per C? È il tempo caratteristico. Quindi si ottiene, infatti diciamo è l'unico risultato che possiamo ottenere, si dimostra che R per C è il tempo caratteristico. Quindi nel circuito di prima, ad esempio, visto che in quello che vi ho fatto vedere, R vale 20 ohm, l'ho misurato, e C vale 100 nanofarad, il tempo caratteristico vale 100 per 20 che fa 2000, 2000 nanofarad, 1000 nano sono un micro, e quindi viene 2 micro, che cosa? Secondi. Quindi tutta la fisica accade in quanto tempo ragazzi, in quanto tempo si smorza la corrente? Abbiamo visto che in 5 tempi caratteristici possiamo dire che la corrente è arrivata al, a quanto dopo 5 tempi caratteristici? Allo 0.7%, dopo 6 tempi caratteristici di 0 e 2, visto che il mio tempo caratteristico fa 2 microsecondi, posso ad esempio dire che verso, dopo un tempo pari, allora 2 per 5 fa 10, quindi dopo circa 10 microsecondi, tutta la fisica è finita. Il mio condensatore si è caricato e non passa più corrente attraverso il mio circuito. Quindi la durata di questa carica, ok, fino ad arrivare a saturazione e quindi a caricamento del condensatore, dura più o meno 10 microsecondi. E quindi è anche difficile, ad esempio, collegando la resistenza, cioè diciamo, trattando la resistenza come una lampadina, usando come resistenza una lampadina, vedere l'accensione iniziale di questa resistenza, di questa lampadina, perché dura solo circa 10 microsecondi, ok? 5 tau, ok. Ragazzi, è praticamente tutto finito, perché comunque, visto che io qui non riesco ad andare avanti perché non so risolvere l'equazione differenziale, sapendola risolvere troverei la caduta di tensione in funzione del tempo, ma io vi ho dato il trucco per saperla calcolare, perché noi sappiamo che, quindi facciamo questa strada, comunque il potenziale sul condensatore nel tempo, allora all'inizio il condensatore è scarico, e poi alla fine si prende tutta la tensione della pila. Quindi, sapendo che l'andamento è fatto così, ed ecco qui ragazzi la furbata, non risolvo l'equazione differenziale, ma utilizzo questa furbata qui. quindi, adesso perdo un po' di tempo, però è utile, la tensione sul condensatore alla fine farà epsilon per 1 meno e alla meno T su tau, dove tau è R per C. Quindi, so scrivere ragazzi, per quanto riguarda il condensatore, le sue quantità di interesse? Sì. Perché per il condensatore, io so che la tensione va da 0 fino ad epsilon, quindi è fatta epsilon per 1 meno e alla meno T su R C, che comunque chiamo tau per comodità, perché una lettera, scrivo una lettera, è più comodo di scrivere due. Cosa sappiamo anche del condensatore? Beh, la carica. La carica sul condensatore non è nient'altro che comunque C per V, ok? E quindi risulta C per epsilon per 1 meno e alla meno T su tau. Infatti, alla fine il condensatore è carico, si chiama carica, e la carica alla fine è C per epsilon. Sappiamo qualcos'altro? Allora, beh, dal punto di vista energetico, sappiamo che l'energia, e questo poi volevo non farlo, ma lo faccio perché comunque voi siete in gamba, vediamo se ragioniamo. L'energia, ragazzi, immagazzinata nel condensatore, continua ad aumentare nel tempo. E qual è la sua formulina più facile? Ma, ad esempio, potrei usare Q quadro su 2C, oppure un mezzo C V quadro, ma possiamo usare questa qui. Quindi sarà un mezzo, ok? C per delta V quadro, quindi per epsilon per 1 meno e alla meno T su tau alla seconda. E comunque, vabbè, alla fine l'energia la si sa, perché la si sa, perché alla fine l'energia che avrà il nostro condensatore alla fine sarà un mezzo, C, vabbè, il delta V quadro alla fine sarà epsilon quadro, ok? Questa è quella finale. È l'energia che ha rubato alla pila. Cosa sappiamo, ragazzi, del resistore? Quindi non voglio impilarvi di formule, voglio capire, appunto, se riuscite a fare gli esercizi senza studiare a memoria queste cose. Allora, beh, intanto noi, prima di parlare del delta V, o comunque del potenziale che cade sul resistore, si può fare in due modi. Beh, intanto sul resistore inizialmente cade tutto, perché all'inizio il condensatore è un filo, e poi alla fine colla a zero. Quindi anche se, anche non sapendo niente, io potrei fare così. Potrei dire, beh, visto che va da epsilon fino a zero, non è come il potenziale di un condensatore o della carica, ok? È una quantità che si comporta in questo modo qui, va da m a zero. Quindi non faccio nessuna equazione differenziale, nessune derivate, nessune cose strane, visto che va da epsilon zero, dico vale epsilon per E alla meno T su tau, dove tau è proprio il mio 2, in questo caso 2 microsecondi. Potevo farlo anche in un altro modo? Sì. Ad esempio, trovando la corrente, che per ragazzi non è tipica del resistore o del condensatore, infatti la metto in mezzo perché la corrente attraversa sia uno che l'altro, per trovare la corrente posso usare tre cose qui. Posso fare la derivata della carica nel tempo ed otterrei il risultato corretto. Potrei semplicemente, visto che comunque vale la legge di Ohm, potrei fare delta V, scusa, sì, il V della resistenza diviso la resistenza e trovare la corrente, oppure, terza cosa, ma vengono tutti uguali, potrei dire la corrente all'inizio, vabbè, alla fine è come fare questo ragionamento, fa epsilon su R perché il condensatore non esiste, e quindi è come un filo e poi crolla zero. Quindi il suo andamento nel tempo è epsilon su R per E alla meno T su tau. Quindi vedete com'è facile in questi casi. E quindi dal punto di vista energetico cosa posso dire per la resistenza? Beh, intanto lei, invece di immagazzinare energia, continua a dissiparla, quindi c'è una potenza che vale R I quadro e quindi sarebbe R per I quadro, quindi sarebbe epsilon quadro R quadro per E alla meno, vabbè, 2T perché tanto elevare la seconda proprietà delle potenze. R R si semplifica e quindi vedete che non è nulla da studiare a memoria, bisogna un attimo pensarci, o anche la potenza dissipata nel tempo. Che legame c'è ragazzi tra la potenza e l'energia? Cioè come faccio ragazzi a calcolare l'energia totale, ad esempio, dissipata nel tempo? Cioè l'energia finale dissipata, quindi tutta l'energia che io ho dissipato, diciamo, da zero ad infinito, qui mi spingo un po' in là, però bisognerebbe saper fare gli integrali, ok? Quindi ci blocchiamo appunto, vedete che siamo limitati dal punto di vista dei calcoli perché non so per fare le derivate, non so per fare le equazioni inferenze, non so per fare le integrali, però l'idea è che io dovrei integrare da zero ad infinito, ok, nel tempo, che cosa è la potenza? E quindi la legge sopra. Se uno sapesse fare gli integrali, tra l'altro generalizzati perché andiamo da zero ad infinito, otterrei tutta l'energia che la resistenza ha bruciato durante questo tempo, ok? Mentre questa è l'energia che invece il condensatore ha immagazzinato globalmente, ok? Comunque queste due energie sono due energie che vengono rubate alla pila, quindi in realtà se uno fa la somma dell'energia finale immagazzinata dal condensatore e l'energia totale dissipata dalla resistenza, ottiene tutta l'energia che la pila ha generato e quindi che ha dato un po' al condensatore e, per farlo immagazzinare, magari poi per farlo scaricare su una resistenza, e un po' sulla pila. Mi fermo, sarebbe interessante capire se ad esempio questa è il 50% e questo è il 50%, ma questi poi sono problemi di quinta superiore, sicuramente non di quarta.